Calignaia venerdì 19 luglio 2019 anche oggi una bella giornata di mare per quelli che da piccini sono cresciuti a pane e volpe a merenda si saranno sicuramente già accorti che cosa bella di Calignaia è che è possibile notare da sponda a sponda come se fosse una piscina oppure fare delle mezze attraversate facendo una sosta ai sassi all'interno della baia possibile fare il bagno sempre anche quando c'è mare molto mosso un saluto ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti